Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo gameplay di Prototype 2 Allora, nell'ultimo video eravamo arrivati al punto in cui avevamo scoperto che Koenig era un traditore e quindi dovevamo prenderlo e ucciderlo naturalmente e quindi continuiamo la missione Eccoci qua Selezione naturale, l'Orion fase 2 è stato distrutto, nel frattempo Koenig ha progettato di uccidere Heller Ok, quindi adesso dovremmo uccidere il vecchio bastardo Il nonno Sargent Heller, perché sei così seccato? No, per offendermi non hai fatto niente, hai solo cercato di uccidermi Addirittura? Siamo sicuri? Eh beh sì Siamo sicuri Quanti elicotteri ci sono? Due? Tre? Usa gli scudi? Ma no, ma usa gli scudi, sarebbe stato più figo Vabbè Ok Siamo pronti, siamo pronti Riduci in genere quello psicotico Ah, io sarei lo psicotico, vabbè Eeeh, attacco balzo No Preso, sì Sì, pigliati con la macchina E pigliati anche un altro attacco balzo, sì Oh mio dio, questi cretini cadono come mosche Capitano, prepari l'elicottero Prepari l'elicottero E se ti lanciassi le persone? Ah sì, funziona Prendi questo E questo Preso, sì Ok Ah Ehi La faccio licenziare Mamma mia È una cosa piuttosto inquietante da dire Uh, ma ci sono i panzerotti Ma potevate dirmelo prima Ed ecco uno Ciao panzerotto Oh, e vai Avanti il prossimo Eeeh, boom Eeeh, boom Due in un No Ok Uh, quello è andato Quello è andato Ok, preso Oh Dividi la metà, sì Tra poco è andato Ha pure questo No, quasi Ah, ho sbagliato Ok, questo è andato Sì Aia Ehi Ehi Vuoi morire, sì o no? Tu Parlo con te Ok Ho preso pure questo Via la testa Sì Ah È stato colpito dal suo amico Dai, colpisci Mi che ti voglio ribaltare Madonna, mi manca Ok No Perché sbaglio sempre a mirare? Che problema ho? Ok 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 Attacco balzo a questo Ed è morto Perfetto E dividiamo la metà Boom Sì Aia Eeeh, boom Eeeh, boom Ok, quello è andato Consumo al comandante Ah, sì, ho capito Ah, sì, ho capito Comandante Non ho di lasciarsi divorare Troppo tardi E bam, bam, bam Perfetto Alla base 7 Perfetto Solo questo ci serve E mo' andiamo alla base 7 E mo' andiamo alla base 7 Esatto Crede di potersi nascondere Il nonno stigato Ehi Ehi Ehi, l'ho preso Ok Diamo un po' Questa maledettissima base 7 Per uccidere questo maledettissimo Dr. Koenig Ok Epp Vum Credete che basti? Qui ci sono questi tre tizi inutili Allora Ho diverse opzioni Posso entrare e fare casino Come il mio solito Oppure saltare Sopra uno di quegli apc E prenderli quel lanciamissile E poi distruggere questi serbatoi In completa tranquillità Quindi facciamo così Mi sembra un po' più furba Ok Boom 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 Vediamo se la mia strategia ha funzionato No maledizione Guardate quella quanta vita Vabbè Ok Perfetto No ho sbagliato Che figo Come ho fatto L'ho spiaccicato per terra Mentre l'assorbivo E adesso mi manca solo quello là Che è andato Con un calcio volante Alla Chuck Norris Perfetto Guardate ragazzi Non ho perso vita Mamma mia Ah eccolo Eccolo Koenig Guardate come corre Dai prendilo Prendilo con i tentacoli Oppure fai un attacco balzo No niente Non dobbiamo evacuare Idiota Ah Attacca Ah Eller Attacca Eller Dai provaci Provaci almeno E se io faccio così Cosa fai? Se ti aggancio Bam Ah tu tipo E riprenditi quei due missili Madonna E prenditi pure questi Di missili Che cazzo ridi Ti sto battendo Ok Ti ho battuto l'elicottero Che cazzo ridi Adesso vengo e ti faccio un culo Ah beh Credo sia morto eh Credo Leggermente No no beh No sarebbe troppo Eh infatti Sarebbe troppo scontato Ci vuole la scena in cui Eller si avvicina e lo assorbe Se no non sarebbe Eller Ehi 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 nonno Con gli occhi rossi Sì Weee Madonna Madonna Madò Ah Che figo Ha il virus pure lui Weee Ah lui ha le lame però È più figo di noi Beh noi abbiamo gli artigli Che sono belli Belli potenti Bellissimi Però quelle due lame Sono bellissime Madonna Ci stanno anche facendo Un bel culo Che tu sei Dipettoso Io sarò lì A vederti Morire Morire Wazoo Boom Bravissimo Sì Sì però io voglio anche giocare Figlio di puta Ah ok Perfetto Sono Sono molto curioso di vedere cosa è capace di fare Dai Dai nonno Tutto qui Aia È bello veloce Giudicardo come Camminava prima Weee T'ho preso eh T'ho preso eh Bam E se ti faccio un attacco balzo Come rispondi Aia Ah ci siamo colpiti a vicenda Eh però hai tentato Madò No ho sbagliato Ho sbagliato tasto Sì Dai dai provaci almeno Attacco balzo Preso preso stavolta Preso Non mi stai dietro ma stai scherzando Sto facendo un culo della madonna Mi hai colpito una volta Dai che ti prendo al vo- No Esatto Prenditi questo Aia Non ho fatto niente Preso Stronzo Attacco balzo No ho mancato Mi fidavo di te attacco balzo Gli hai deluso Che cazzo ha fatto Adesso gli facciamo un bel regalo Bam Sì l'ho colpito ma gli ho tolto poco Meglio usare questo No non l'ho preso Bam Eeeh Shpepem Preso E adesso finiamo con l'attacco balzo Ok consuma Perfetto Addio Addio bello No Esatto Voglio che tu stia zitto E muoia Sì Voglio più violenza Come reclutare gli evoluti Tra i raggi della genetica Come reclutare gli evoluti Ah ce ne sono altri quindi Che figo Non vedo l'ora di vederli Ma adesso che abbiamo ucciso Koining Ci darà Ci darà le lame Wow spero di sì Eccolo Mercer Esatto Ovunque Madonna Allora sono tantissimi Addirittura E' il virus E' il virus Vabbè sì Dalla faccia che fa Non credo Speriamo Non mi fido molto Di quella faccia da culo Però se si fida Noi siamo a Elver Wey Mega salto Ma sappiamo farlo anche noi Ah fottuto bugiardo Quindi non si fida Padre Nella zona verde Nella zona verde Ah quindi ha delle informazioni Padre guerra Il mitico padre guerra Colui che neanche il virus Può uccidere Dimmi che ci dà le lame Dimmi che ci dà le lame Dimmi che ci dà No non ci dà le lame Però un casino di punti Guardate Trentamila punti Ok Missione sbloccata Ponte aereo Grazie Grazie